buongiorno adesso ci andiamo a vedere un altro episodio di carretto life federico non faustino e nonna maria con dissing e poi come di solito le solite arsughe sta nevicando e poi federico vi invita a vedere un post volendo le vostre opinioni a voi il firmato sto cazzo ma stavola sta zitta il catarro dal cazzo ma lo spiritoso male è anche quello sta più di qua che di là ma questa è matta questa è matta perché questa proprio non capisci più è partita del tutto perché da che è una volta che mi ha detto i fagioli come le vuole il fagioli è bianco con l'olio e l'aceto aia giù incredibile sta nevicando guardate come nevica come si riempiono tutti gli appennini le alpi le alpi avuane sta nevicando anche sul cauca so incredibile sta nevicando guardate come nevica aia guardate tutti gli impianti aperti incredibile guarda quanto ce l'ha messo guarda quanto ce l'ha messo aia aia mi fa male ti piace o nana o no? eh? tu fucile come fa con gli occhi o nana? guarda da me guarda da me oh come fa? come fa? come fa o nana? come fa? come? come? oh è giù dai le pinzi morte codrigli andate sul mio ultimo post andate a commentare quale ricetta potrei far assaggiare al nonno chiaramente una ricetta strana una ricetta che all'apparenza è bella però potrebbe non gradirla quindi andate sotto il mio ultimo post scrivetemi tutto tocca a voi perché il prossimo video voglio fare questo voglio fare il cuoco un po' stronzo grazie a tutti grazie a tutti